Mister, vorrei partire dall'incontro di martedì con il Presidente. Manzo ha detto, ho parlato chiaro alla squadra, basta alibi, adesso devono soltanto vincere. Dal suo punto di vista come è andato quel confronto con il Presidente? L'alibi noi non l'abbiamo mai cercato, ne voluti, niente alibi, ma l'incontro va sempre bene. C'è la proprietà che dalle sue direttive, come è giusto che sia, è la proprietà, è il suo dovere e il diritto farlo. Ma direi è andato bene, è stato un buon incontro sicuramente. Dovesse spiegare a qualcuno che non ha mai visto questo campionato per quale motivo l'Arezzo è ancora lì a lottarsi il primo o secondo posto e non è in testa come molti avrebbero pronosticato, che cosa gli direbbe Mister? Evidentemente la risposta dovrebbe essere che non siamo forti come qualcuno crede. Io all'inizio dell'anno mi ricordo quando ne vinciavamo tutte e dicevo state buoni, calma, dobbiamo migliorare. Evidentemente non siamo migliorati abbastanza, però faccio notare che ci sono anche gli avversari, sempre e comunque. In questo campionato faccio ancora notare che tantissime volte le squadre nel nostro girone, ultimamente sempre, le squadre sono partite a favore dei pronosti e non hanno mai vinto. Speriamo adesso noi a sfatare questa cosa. Per sfatarlo questo tabù, Mister, che cosa serve? Una domanda che ricorre un po' in quest'ultimo periodo. Serve una sterzata dal punto di vista psicologico soprattutto o qualcos'altro? Non credo io. La cosa che sicuramente sono pronto a mettere la mano sul fuoco, come si dice, è dell'abnegazione dei ragazzi, dell'impegno, della volontà di mettere tutto quello e ci hanno per vincere. La risposta forse è l'altra, l'ho detto, che ci sono anche gli avversari e è una squadra che se la mette sul piano del gioco, su un terreno adatto, non è seconda a nessuno questo campionato. E l'abbiamo dimostrato, vedi fianchi a Stagnaio, vedi Gaborrano. Mentre se la partita va su altre cose, tipo lotta, guerra, palla alta, alias Tamburello, è molto, molto, molto meno brava. Si può rimediare questo difetto, mister? Si può correggere? Non è facile, non è facile. Si può correggere non giocando nei campi come quello di domenica o come... Però questo è un campionato difficile anche per questo motivo. Primo perché ne vinci una sola e quando ne vinci una sola è difficile, difficile, difficile. Secondo perché le condizioni per giocare in calcio sono più le volte che non ci sono e quelle che ci sono. E comunque noi siamo sempre lì, siamo sempre lì. Facevano fare il Presidente l'anno scorso, in questi tempi, potevano andare via tutti. Noi siamo sempre lì. E con 13 giornate a giocare, è a lunga ancora. Ancora non hanno vinto Pianese e Pugginbonti, ancora non hanno vinto. Tra l'altro direi anche sono l'unico e tre che lo possano vincere a questo punto, penso, più o meno. Però sia Pianese e Pugginbonti ancora non hanno vinto. Noi siamo sempre lì, con tutti i nostri difetti. Viste, vorrei chiederle, a costo di sembrare troppo curioso, giovedì alla fine dell'allenamento si è fermato a parlare qualche minuto con Foglia, con Gucci, Castiglia, Settembrini. Può dirci di che cosa avete parlato in quei dieci minuti lì? Aspetti tecnico-tattici, sicuramente. A volte si domanda anche come si sta con le famiglie, insomma, in quel caso no. In quel caso, per esempio, la nascita della figlia di Astiglia è già passato un po' di tempo. Se era un mese fa forse si parlava anche della figlia che gli era nata, no. Aspetti tecnico-tattici di quello che mi ha domandato prima, dobbiamo migliorare? Ecco, forse no, una cosa forse, 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 speriamo, non lo insiuro, eh. Non possiamo andare in difficoltà con le pallonate delle squadre avversarie da, 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 di laggiù, da, dai portiere loro. Ecco, abbiamo cercato un settimana di migliorare questa cosa, vediamo domani se si verifica questa cosa di migliorare. Non posso, capito? Perché Dio che questo è un campionato talmente di sopra? Allora gli portavo proprio questo esempio. Vedevo Inter-Atalanta, l'Atalanta non riusciva a uscire. Non ci fu nemmeno una volta e tirò una pallonata a caso là davanti. Di calcio vero. Qui il calcio vero, purtroppo, quindi molte volte è il tamburello, come domenica scorsa. E se è il tamburello non siamo bravi. Questo è appurato. Vediamo però se in tamburello, vediamo di essere bravi a non prendere go. Oh, ecco, sui tamburello. Non sarebbe di già poco. La Flaminia dovrebbe giocare comunque, almeno teoricamente, con un modulo più propositivo e anche con un atteggiamento un po' diverso, come si aspetta dalla domanda domani. A Calandata ce l'avamo così, però non mi ricordo due passaggi di fila in mezzo al campo. Ce l'avamo così a Calandata, ma non mi ricordo due passaggi di fila nel centro di campo a Calandata. Ecco perché bisogna migliorare su queste pallonate, su questi lanci, sulla nostra ultima linea, così. Vai, mando la palla là. Che se lo facciamo noi, vero, si dà sempre a farla agli altri. No, noi non lo vogliamo fare, né siamo bravi a farlo. Mi chiedo come sta Gaddini, come sta Cantisani che è arrivato da poco e che la formazione non gliela chiedo, tanto non la indoviniamo mai. Non la direi, non mi la chieda. Cantisani è arrivato, ha fatto il primo allenamento mercoledì sera, uno, due, tre allenamenti. Vediamo se si porta a disposizione. Comunque sta bene perché lui si è sempre allenato, non ha avuto problemi, ha giocato in primavera due. Gaddini, stasettimana si è fatto all'inverso. La scorsa settimana partì facendo i primi due allenamenti e poi morto. Stasettimana si è tenuto fermo nei primi allenamenti, sembra è ora morto un sì. Ecco, almeno fino a dieci minuti fa non era morto, era vivo. Cosa invece la settimana scorsa era morto dai giovedì.